Musica Volevo solo dire che sono qui e perché stamattina mi sono svegliata pensando che non posso aspettare ottobre perché le cose stanno accadendo adesso e adesso bisogna manifestare il dissenso e voglio andare forse non cambierà nulla forse sì io lo spero ma scusate se dico una cosa anche un po' egoistica anche se non dovesse cambiare nulla io stasera voglio andare a dormire tranquilla da aver fatto il mio dovere bravo